Ciao a tutti, sono Davide ed oggi vi parlo delle cartucce Dormouse. Le cartucce Dormouse sono compatibili con tutte le macchinette per tatuaggi che adottano il sistema cartucce. Sono provviste al loro interno di una membrana chiusa che previene lo spitback dell'inchiostro. In parole povere, l'inchiostro il colore utilizzato non sale, salvaguardando l'interno della macchinetta dalla contaminazione. Vediamole da più vicino. Le cartucce si presentano con un look semitrasparente che permette di vedere l'inchiostro o il colore all'interno. Inoltre hanno un numero stampato sulla plastica che corrisponde al numero di aghi da cui è formata la cartuccia. In questo caso, ad esempio, vi è il numero 15. Infatti abbiamo una 15 Soft Magnum. Apriamo ora la cartuccia. Notiamo subito che è presente la membrana, che è chiusa e piuttosto morbida. Infatti imprima una forza sul motore di circa 270 grammi. Questo significa che il motore sarà sottoposto a meno sforzo. Di conseguenza, aumenterà la sua longevità e richiederà meno ampere all'alimentatore. Notiamo inoltre che gli aghi della cartuccia sono pressofusi e danno una buona saldatura. E, visto il microscopio, hanno delle belle punte. Ma parliamo ora di prezzi. Le cartucce Dormaus si trovano sul mercato in confezioni da 20 cartucce. A prezzi che variano dai 20€ più IVA fino ai 27€ più IVA in base alla misura. Le cartucce Dormaus sono disponibili nelle seguenti configurazioni. Round Liner da 0,30 mm e 0,35 mm. Round Shader da 0,35 mm. Magnum da 0,35 mm. E Soft Magnum da 0,35 mm. Per questo video è tutto. Ora che sapete come sono le cartucce Dormaus, potete correre ad acquistarle nei negozi o sul sito www.electricdormaus.it Vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti nel mondo del tattoo. Ciao a tutti!